Stasera il superattico vista fuori imperiali incanterà Giulia Montini, compagna delle elementari, trovata per caso su Facebook. E te la ricordavi? No, solo che durante l'ultima cena di classe è spuntata sta fica pazzesca. Non ce l'ho fatta, le ho detto che sono stato innamorato di lei per cinque anni. Sì, ho capito, ma io pensavo che stasera noi uscissimo insieme. No, tu stasera vai a casa, io stasera c'ho Giulia Montini della sezione B. O sezione C. C'è non le sezioni alle elementari? Lo sfiorato è un territorio nel quale un carattere, un individuo, riesce a cambiare forma, a evolversi in maniera del tutto inaspettata. Cioè a compiere azioni, assumere atteggiamenti che sono dettati più dal caso che da una volontà. È quasi un abbattimento di una propria morale, di una propria etica. Penso. Esiste una linea oltre la quale è inutile farsi delle domande? Beh, quando Cristina Montini sarà entrata da quella porta, quella linea l'avrà bella che superate. Lo vuoi un consiglio? Sì. Chiamala Giulia. Chiamala Giulia tutta la sera, soprattutto se si chiama Giulia. Giulia. Giulia Montini, che cazzo è Cristina? Giulia. E anche a volte vuole bajo, cogo altura si te veo, eres rama, eres refugio, eres agua en mi desierto. E qui ando di nuovo, la penumbra perdita.